La storia che sto per raccontarvi è emozionante, affascinante e per certi aspetti anche tragica. Questa storia affonda le proprie radici a più di 300 anni fa ed evidenzia il legame indissolubile fra Scigli e la Spagna. Il protagonista purtroppo è stato un po' dimenticato ma ha svolto a Scigli delle funzioni molto importanti. La sua presenza, assieme a quella della sua famiglia, hanno lasciato dei segni indelebili e qualcosa che ancora oggi possiamo apprezzare. E come si chiama il protagonista di questa storia? Il suo nome è Domingo De Serrato. Seguimi se vuoi conoscere il resto della storia.